Genoa ha cambiato tantissimo a gennaio, si è rinforzato, l'ha dimostrato diverse volte. Noi dobbiamo essere super determinate e vincere anche questa partita come se fosse appunto una finale perché finalmente abbiamo ripreso nelle nostre mani il nostro destino, ci siamo avvicinate, al primo posto siamo solamente più a due punti. Questo però appunto non ci deve far accomodare e sottovalutare la partita. Le nostre qualità tecniche non sono mai state messe in dubbio, ma adesso in questo momento del campionato siamo arrivati ad una consapevolezza che ci rende appunto fortissime, ci permette di soffrire quando c'è da soffrire e di vincere quando possiamo. Qua siamo tutte importanti, tutte le giocatrici, anche lo staff, la società, tutti possiamo aiutare per raggiungere il nostro obiettivo e penso che con il lavoro si raggiungono sempre gli obiettivi, a prescindere da quanti intoppi o quanti problemi ci siano durante il percorso.